Il nostro batterista stava risarciato con 39 di febbre, questa è un applauso, questo è vero, ha preso delle pasticche che andava in coma varenna, vedi lui, è lì, è un applauso. Il nostro batterismo è un applauso, questo è vero, ha preso delle pastiche che andava inciamo la batione. e i loro nomi lo sapete in un diretto e a te e 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